Assessore Rogero, che dire, finalmente ci siamo, festival della cultura mediterranea a tre giorni con una conclusione in grande, frecce tricolori, vespucci, insomma Imperia è festa. Imperia è festa, davvero un weekend di festa ma soprattutto è l'inizio di una stagione che è molto promettente, ricca di eventi, ricca di concerti, ricche di iniziative, ricche di cultura sposate con eventi più magari leggeri di intrattenimento. Ma soprattutto credo che per l'organizzazione di questo festival sia il giusto riscatto perché non hanno mai mollato neanche nei tempi più bui della pandemia e questa invece è una ripartenza in serenità e insomma con grande entusiasmo. Quindi bravi agli organizzatori, noi dalla nostra parte siamo sempre disponibili e collaboriamo con piacere per una città sempre più viva.